bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi oggi parliamo di leaks sulle nuove cose che vedremo nello shop di fortnite abbiamo già visto oggi le nuove skin disponibile di già nel nostro negozio sono le skin per festeggiare le finali dell'nba come vedete la skin femminile la skin maschile con tanto di piccone e deltaplano veramente veramente bellissime le apprezzo davvero tanto credo che valga la pena prenderne almeno una delle due ma soprattutto il deltaplano che è molto molto carino per quanto invece ci riguarda ragazzi nei prossimi giorni vedremo arrivare dei nuovi balletti e come al solito saranno 4 di solito ne mandano su 4 5 ogni due o tre settimane li ho pescati su internet per voi volevo farveli vedere e volevo un attimo commentarli con voi ce n'è uno che mi piace in una maniera proprio andiamo subito andiamo subito senza perdere tempo troc vengo giù subito il nostro mino di zenzero ragazzi questa si chiama boogie down molto molto carina ragazzi tu che si balla parabarabam parabarabaram sembra tutto secondo me ragazzi dedicato appunto all'america all'nba al sono molto uniti sono molto uniti quelli di epic games con gli sportivi americani e come vedete già dal secondo ballo si capisce bene che questi quattro balli sono davvero dedicati a loro ballo numero due molto molto carino anche questo sembrava un pochettino la pubblicità dell'nba di una volta della nike di una volta quello che con i palloni da basket non so se ve la ricordate magari siete un po giovani comunque molto molto carino anche il secondo ballo il terzo ballo invece è un pochettino più ignorante come giusto che sia allora una risata con tanto di raglio dell'asino sotto non male divertente ci può stare unito ad esempio al club quello che si faceva quello che abbiamo trovato disponibile la stagione scorsa molto molto divertente per sbeffeggiare gli avversari ma secondo me ragazzi la più bella di tutte è questa qui molto molto interessante balletto prepotente piri piri bp piri piri bp non è male penso che questa me la lascio però ragazzi è un si chiama rambutius ed è una un ballo raro quindi dovrebbe costare sugli 800 se non ricordo male beh ragazzi questi erano quattro balli nuovissimi che troveremo con i prossimi giorni di fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video spero che vi siano piaciuti vi ricordo un bel like e per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al canale visto che qua ci sono le news su fortnite e su fortnite mobile noi ci vediamo in live ciao 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 ciao